Musica Si è svolto venerdì 11 febbraio nella sede di Confindustria a San Benedetto del Tronto un incontro e un seminario con l'ambasciatore Sabluk, ambasciatore della Repubblica Ucraina e rappresentante commerciale dell'ambasciata Ucraina in Italia al fine di promuovere l'imprenditoria picena nel paese che ospiterà gli europei del 2012. Confindustria intende dunque promuovere nuove opportunità di mercato e conoscenza a livello internazionale per le imprese e promuovere il piceno con le sue ricchezze imprenditoriali.